Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti e bentrovati sul mio canale, benvenuti in questa nuovissima live a tema Marvel Spider-Man 2 Ragazzi oggi siamo qui finalmente dopo un bel po' di giorni perché venerdì non ho fatto live, venerdì la live è saltata perché era il compleanno di regia quindi ancora auguri a te regia e quindi per un po' di giorni non ho fatto nulla, mi siete mancati un botto e mi è mancato tantissimo il gioco Io devo dire mi sono dilettata leggermente, ho fatto giusto qualche secondario nel tempo che avevo e vi volevo far vedere i costumi stupendi che ho messo al momento ai ragazzi Peter ha questo costume stupendo e Miles ha questo, sono abbinati in stile Batman tutti e due, uno bianco e uno nero, quanto sono carini quindi ve li volevo troppo fare vedere perché sono adorabili e bando alle ciance, ciancio alle bande, ora noi facciamo la nostra missione principale mi stavo dilettando con le secondarie ma è arrivato il momento di fare la principale che è un po' lontanuccia però fortunatamente abbiamo il teletrasporto quindi ci andiamo così, l'ho scoperto da poco come funziona ole eccoci qua lo potete fare in qualsiasi punto della mappa, questa cosa è bellissima non pensavo lì c'era una secondaria tipo appena scoperta ma tanto noi, ecco qua, dobbiamo fare la principale ah ragazzi, giusto, nell'ultima live vi ricordo che abbiamo praticamente preso inconsciamente i poteri di Harry e quindi nelle scene non tiene in considerazione che io ho messo il costume ovviamente nelle scene vediamo Peter col costume da Venom, quindi godiamocelo se non li ho fermati che sai dirmi di questo oggetto d'antiquariato? mi ha quasi ucciso buonasera Sir Daniel, benvenuto quello era il pugnale che ha colpito Peter devi andartene aspetta, posso proteggerti dai cacciatori non è di loro che ho paura pensavo di aver lasciato tutto questo a Volgograd le fiamme sono accese questa è la sua giungla ora Kraven Kraven Kravenoff Kravenoff è il suo vero nome, attenzione vi ricordo che siamo alla ricerca di Kraven che ci ha feriti mortalmente è di Lizard, che è il dottor Connor a cui è stato purtroppo impiantato il come dire, il siero di Lizard quindi si è trasformato in Lizard stai bene? ciao Miles sto alla grandissima non avrei dovuto aspetta davvero? sicuro? senti, ti richiamo io adesso sono a caccia di falò ok cos'è questa storia di accendere dei fuochi? allora, che dobbiamo fare? ok un po' di sano combattimento ok vai bel pugnetto Venom ogni tanto ci vuole la bruccellaccia ci sono per i miei gusti andiamo a riuscire qualcuno forza spero non sentiate i miei tasti ragazzi, ormai da un bel po' che non li sentite più quindi ho imparato a mettere il microfono come si deve o o magari è diventato un po' meno sensibile rispetto all'inizio speriamo la prima opzione ok vediamo che combinano vodca di volgograd deve essere per una specie di evento chissà cosa stanno festeggiando ispezione i falò e qua non c'è nient'altro da fare raga quindi andiamo al prossimo ripeto, peccato che nelle missioni principali non tiene conto dei costumi però vabbè, ovviamente è coerente alla trama ci mancherebbe aspettate che qui ci sono i cecchini cavolo facciamo direttamente così ah va, l'ho premuto forza andiamoci a prendere il cecchino non me lo fa prendere vabbè ok, lo prendiamo adesso così fatto fuori non ci può più disturbare tanto loro non mi facevano paura neanche prima forza ok buonasera Rose benvenuta quella che mi dice torna giù senti tu a chi vorresti dare ordini esattamente a posto vediamo un po' dobbiamo salire eccoci guarda col potere Venom che figo tira a posto entriamo vediamo che info che info troviamo chissà che c'è dentro queste bottiglie raga qualche siero strano ispezione i moli vamonos dunque ragazzi il gameplay di sto gioco è troppo troppo divertente guarda come lo picchia non c'è altro lo devo aiutare eh sì ci sono un po' di cecchini andiamo di combinare qualcosa allora come sapete io non amo particolarmente lo stealth quindi se posso farcela senza come sapete lo preferisco al momento non ho trovato grossi difficoltà nel giocare così se imparate a utilizzare le abilità non ci sono grossi 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 problematiche ecco non ci sono grossi difficoltà secondo me basta schivare al momento giusto ah ma ce l'ho davanti la torretta ok via non posso ragazzi non lo vedo vai in acqua si era buggato sotto al molo dai eh uccidilo con la ultimate che mi sorrota ragazzi sto buggando tutto vabbè l'importante è averlo trovato non lo trovavo allora ciao caro ti porto in salvo piano non sei in gran forma sai ti aiuto io porta il ferito all'ospedale per favore ce n'è uno vicino andrà tutto bene vamonos pensavo proprio di essere spacciato che cosa volevano sono sparite delle merci durante il tragitto e hanno dato la colpa a me ok mettiamolo qui ora sei al sicuro quindi la consegna 718 Kent vamonos chissà come sta Harry senza la tuta ehi Harry come ti senti? sto bene per ora graven o gravinoff da una festa al 718 di Kent io farei un salto sembra un social club aspetta sono quasi lì dai che siamo arrivati per andare vicinissimo tutti i smoking attenzione buonasera Mets benvenuto attenzione non mi dire che glielo mette lui lo smoking bellissimo sono una spia una spider spia non mi avevi detto che può trasformarsi in uno smoking non l'ha mai fatto con me ecco alve bello quel pezzetto di carne ehi tu vieni qui portalo alla guardia del corpo di Kravinoff subito perfetto raga buonasera Nick benvenuto chiede come stai un po' stanca oggi devo dire un po' stanca però si sta bene raga si può sempre stare meglio ma si sta bene diciamo che è stata una giornata particolarmente impegnativa sia fisicamente che psicologicamente però sto bene ecco mi chiede se sono in hype visto che sta per uscire Rebeard non solo sono in super hype per giunta mi sto mangiando le mani perché al momento raga stiamo parlando di 80 euro io non mi sento di spendere in questo esatto istante quindi mi dispiace un po' io ve lo volevo portare al day one ma raga 80 euro sono un po' tanti raga ormai i videogiochi hanno prezzi allucinanti veramente un sonnifero così vecchio non funzionerà mai beh io dico di sì scommetti ah sì vediamo allora prendo un volontario prego che sto combinando ma povero ti ho detto che è troppo vecchio e non sai nemmeno come si usa quell'affare un vero cacciatore improvvisa ok sogno d'oro bello che cacciatori fanatici cerca il capo cameriere Nick dice Sabri puoi tranquillamente aspettare che scende di prezzo anche io faccio così vero io non volevo aspettare nel senso volevo portarvelo il più presto possibile per perché sì raga per portarvelo fresco fresco però costa troppo ah sì nell'altra stanza vicino al camionetto ah il signor Craven ci raggiungerà stasera avrei bisogno di una fa niente caro Craven non è qui Craven è incredibile vero sembra più una guardia del corpo porta il piatto allo scudiero di Craven ora abbiamo scoperto il suo vero nome tra l'altro raga Craven guardalo raga è una montagna raga la montagna del trono di spade è preciso ecco a lei la bella bisteccona al sangue l'aveva richiesta lei così è stato detto di portarlo alla guardia del corpo di Craven e chi ti dice che sia io me lo dice la sua mole Tim ha molta fame fattene ora ben detto io stavo giusto per farlo tranquillo Nick non ti preoccupare grazie per essere passato stavo fissando quella stanza mi serve un ascensore vediamo dov'è la scuola quanto è grande Dima Dima è una donna secondo me altro che ti stanno facendo credere che è ancora più grande del colosso qua di quello che abbiamo appena incontrato ma secondo me è una donna non scusarti muoviti permesso oddio ops che disastro se non è tutto perfetto siamo morti sto uscendo prendi l'ascensore Peter ora mai più ciao ok marchiamo con la porta ci porterà a Kraven e al suo strano siero facile entriamo che bella ecco perché voleva la carne non mi aspettavo una tigre questo è poco ma sicuro ma pensate ok portiamo a Dima qualcosa da mangiare che non sappia di ragno ci sarà della carne qui vicino eccola là vabbè si va a stealth e si ruba che problema c'è qualcosa nello studio può aiutarmi a trovare Kraven ma prima devo improvvisarmi diciamo così qui il cacciatore allora lo scudo apposto torniamo a portare la pappa forse questo spuntino ha bisogno di ritocco ruba il dardo soporifero dov'è il cacciatore addormentato facciamo così? troppa gente vicino a quel cacciatore però mi dice sicuro io lo acchiappo ora mi spuntava sicuro ragazzi perché lo dovevo lasciare lì ok è stato più facile del previsto torniamo da Dima se il piano non funziona resta solo un altro piatto scendi tigretta guarda guarda con un piccolo spuntino buona gnammi oh uhlala subiti un capolavoro di chef spide chef spide bellissima questa parte ragazzi stupenda persino la sua festa ispezione alla sala di Kraven caso avesse lasciato il siero qui in giro allora sì guardiamo un po' in giro vediamo devo averlo mancato di poco Kraven stava pregando beh ha la foto probabilmente della sua famiglia guarda qua tutti i suoi discendenti ora piano piano scopriremo di più su questo personaggio vediamo intanto stava bevendo qua con qualcuno non vedo il siero di Kraven ah no è il siero forse cosa sono queste pozioni eh appunto forse è questo che lo rende così forte io non lo berrei vediamo qua che c'è quindi la caccia ha un risvolto esistenziale interessante vediamo qui è più colto di quanto pensassi un po' di filosofia russa è l'ideale tra una caccia e l'altra va bene indaghiamo ancora dall'altro lato eccoci qua però non dirne che stia cercando di combattere il cancro rubando i poteri degli altri per rendersi sempre più forte e superare la malattia attenzione leggiamo è il momento della preghiera mia madre apriva ogni battuta di caccia con queste parole altri trascorrevano la notte ingozzandosi e bevendo fino a collassare noi no i Kravinov erano diversi per noi la caccia era sacra un dovere verso il potere superiore i predatori spingono i deboli a migliorare noi forgiamo il mondo come diceva lei illuminati dalle candele della nostra chiesa condividevamo qualche boccone di pasca l'attesa crescente ci attanagliava lo stomaco pronti a onorare i nostri avi sentivamo il loro sangue scorrerci nelle vene anche se lei non c'è più continua a rispettare la tradizione le fiamme sono accese la chiesa è pronta questa notte pregherò per quella che mi auguro sia l'ultima volta la caccia ha inizio e se non farò ritorno tanto meglio ce ne andiamo che dici siamo stati anche abbastanza direi tigretta che sei carina cucciola stai bene è da brava oh oh ci sgamano ciao cioè dobbiamo combattere o si scappa? si combatte mi sa vabbè pazienza picco simbiotico vai che figata la pasta potere ma che bello è ma dai ma che figata cos'è quando è attivo il picco simbiotico aumenta esponenzialmente la potenza la potenza dei tuoi attacchi puoi attivarlo quando l'indicatore è picco simbiotico e al massimo ok vai una figata pazzesca ragazzi questo potere questa tuta ok mi piace combattere arriva ok ah ma lui è maledetto vero cavoli devo stare attenta se no sono morta un attimo un attimo che non sto vedendo più niente un attimo che non sto vedendo più niente ero sull'orlo sull'orlo per quello ero zitta ce l'abbiamo fatta vamonos è stato divertente non è male che funzionano bene sti poteri va che stia prendendo più consapevolezza vabbè siamo fuori si va alla cappella eccoci che silenzio sembra un cimitero ah via mi rimaro raga me la devo prendere con quello gigante ok funzionano sei tu sapevo che prima era scoccata la scintilla figurati vorrei approfondire la conoscenza ma ho altre questioni da sprecare ma come l'ammazzo questo sapete il vostro capo non è proprio un santo no raga non so come prenderlo lui non la sua giungla devi colpi con scudo per esporli e controattacchi proviamo ok cavolo non l'ho previsto vabbè piano piano la vita gliela stiamo togliendo è tipo un mini boss raga vorrei dirgli due parole soprattutto sull'ultima parte aspetta allontaniamoci un attimo raga vado a me lo studiare un secondo ok dai ok l'ho deviato anche stavolta ok ho fatto anche il pugno tavolo facciamo così a posto raga l'ultimo volto va bene gli altri raga non mi interessa non mi fanno paura il problema era lui ok si può combattere normalmente adesso vai ok non andiamoci raga perché c'è quel potere maledetto ok è rotto è remosso lui a posto altri si va con lui usiamo il potere boh finito pippette entriamo vediamo se scopriamo qualcosa in più su di lui sono qui per ritirare un siero per il dottor connors e mi sa che ce lo troviamo qui il dottor connors così questo questo pensiero mi hai trovato molto bene grazie mille sergente grazie di cuore scusate ragazzi metto un attimo pausa grazie mille sergente per l'abbonamento grazie veramente mi dice ciao sabri come è andato il compagno di regia molto bene ci siamo divertiti un sacco siamo andati a giocare a biliardo ci siamo divertiti un botto quindi molto bene grazie e grazie mille per esserti abbonato grazie del supporto eccolo grazie un film questo gioco quanto è bello dammi quel siero grazie 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 voglio solo salvare il mio amico tu sei forti guarda guardate come gli è cambiata la voce non è finita qui era ovvio che voleva che voleva lui intanto abbiamo preso l'antidoto però ecco guardiamo il lato positivo e gli ha messo una specie di ricetrasmittente vabbè dobbiamo tornare da Harry ho il siero sto tornando alla Emily May come è andato molto bene diciamo che non è stata una passeggiata con Gravel è ancora più forte di quanto sempre davvero notevole l'importante è che tu stia bene e che tu abbia preso il siero sei stato grande bello preparo tutto qui dimmi la verità è stata non volevo far preoccupare Harry Gravel ha scoperto che può verificarsi un guasto se la tuta viene sottoposta a certe frequenze quanto è grave questo guasto crea problemi ma posso gestirlo ma ci vado lì su ragazzi tieni gli occhi aperti e voglio sapere che le va no assolutamente ragazzi ho attivato il potere per sbaglio porca miseria volevo solo provare a lanciarmi lì non mi ricordo come si fa ok l'ho preso raga prossimo titolo dopo Spider-Man allora nei miei piani ragazzi c'è Final Fantasy VII Rebirth però stavo spiegando prima che costa veramente veramente tanto al momento raga io l'ho solo visto 80 euro sinceramente 80 euro raga non me la sento di spenderli così aspettiamo un attimo che scenda un pelino di prezzo e poi ve lo porto questo poco ma sicuro quindi vediamo se da qui a quando finisco Spider-Man scende di prezzo ci aggiorniamo comunque su Instagram qualora dovessi portare altro seguitemi nel mio profilo Instagram seguitemi nelle storie perché io vi faccio sempre partecipare ai sondaggi e letteralmente vi faccio scegliere il gioco quindi se vi va seguitemi anche lì per non perdervi le novità ecco entriamo vediamo cosa ha da dirci Harry tranquillo Ghost Rider grazie del ride ecco Harry vediamo un po' le novità dobbiamo sintetizzare l'antidoto aiuto dobbiamo ripulire questo schifo ok ce l'ho fatta è stato abbastanza semplice dai palmitato palmitato di metile potremmo stabilizzarlo con un raggio di elettroni l'operazione richiede un acceleratore di particelle sarebbe come tagliarsi i capelli con un fucile bisogna usarlo che belle le musiche ma è tutto bello in questo gioco lo devo smettere sto diventando una fangirl pure di Spider-Man 2 ti prego fai in modo che non si apra un buco nero speriamo che figo speriamo pericoloso lo sicuro lo è bisogna rischiare un minimo poi Harry dovresti sapere che la tuta è resistente basta che non ci passiamo in mezzo dopo averlo riallineato se non ci saranno altri problemi di pressione niente esci e basta forza Harry sta prendendo potenza ma il raggio è incostante usa i magneti per stabilizzarlo come? devi trovare il punto giusto gli acceleratori di particelle non hanno punti giusti vai dai ce la stiamo cavando su sto provando comunque ragazzi stavo dicendo prima regia che che praticamente il coso aspettate che io stavo parlando significa che l'acceleratore funziona caro il mio genietto stavo provando a dire una cosa non mi fanno parlare raga stavo dicendo che il controller raga è implementato benissimo c'è la vibrazione i suoni veramente il dual sense è super implementato bene in questo gioco spero che facciano sempre i giochi così perché è stupendo aspettate che cerco di dire una cosa senza buggarmi perché sono troppo concentrata allora quello che stavo dicendo a regia oggi è che secondo me il dual sense è veramente implementato bene in questo gioco perché ogni piccolo passo ogni ragnatela lanciata ogni slancio che i ragazzi fanno vibra il controller in maniera giusta o comunque anche il fatto di interagire adesso con questi aggeggi il fatto di dover utilizzare R2 delle due in modo appunto graduale perché ovviamente in base alla pressione che date ai tasti fate azioni diverse raga si percepisce perfettamente lo sforzo da fare quindi veramente è implementato alla stragrande quindi io spero che sempre di più facciano uscire giochi dove il dual sense risponde in maniera così perfetta raga veramente bellissima una cosa che ormai involontariamente la do per scontata però ci tenevo a dirla perché non lo dico mai ma è veramente veramente super implementato bene quindi bravissimi continuate così raga fate più giochi così gli da fastidio l'acceleratore di particelle perché solo adesso però quindi la tuta ha orecchie sensibili eh così sembra eh sì cosa è successo ci sono state altre scariche ma l'acceleratore funziona ancora il serio è apposto fuoco ecco perfetto stiamo distruggendo tutto era andato tutto troppo bene sembrava strano tu prendi quel lato io questo ok che devo fare le ragnatele non servono contro il fuoco e no che altro posso usare ecco facciamo così di qua pure stessa cosa grazie legge della termodinamica e questo lo devo chiudere però aspettate aspettate quello va chiuso ok altro incendio spento lì come va Harry sto bypassando ogni sistema conosciuto dall'uomo si sale ma pensavo che c'è sempre qualcosa che va storto nelle grandi adrese ecco il nostro qualcosa non portare sfiga andiamo di qua ecco Harry Harry come siamo messi che devo fa Harry non può spegnere gli altri incenti da solo ah ce n'è un altro altro ok era l'ultimo mi sa a posto ok antidoto completato allora tu spegni tutto io prendo l'antidoto trovo il dottor Connors non così in fretta è una procedura in 67 fasi se lo tiriamo fuori prima perdiamo l'antidoto sembra che ci vorrà del tempo hai fame posso prendere due pezze pure qui i gacciatori ma basta vabbè quando Kraven non c'è i gacciatori ballano ditemi dov'è bellissimo no bellissimo e rimangono lì eh ma appunto devo uccidere però lo stesso guarda che tontoloni ma cosa vuoi chiamare potreste evitare grazie preferisco le battaglie tra intimi pensavo che Kraven cacciasse solo i supercriminati perché sono devono avermi seguito quando ho rubato il siero ok ma infatti io sono tranquillissima al momento vai c'è paura uh che paura aspettate mi allontano un attimo così ho il tempo di prendermela solo con lui ecco qua ok ok così mi posso anche curare poi l'ho risalito però in teoria non mi fa più paura ecco ti ho parato di nuovo amico te l'ho detto che non mi fai paura una volta che imparo le tue mosse poi sei fregato ok è quasi senza corrente qui resto io e prendo l'antidoto tu devi scappare non posso sono lui attento oh oh e ora oh ma poi non esiste polizia cavolo nessuno che gli dà una mano a questi poveri crasti bravo vai scarica che figata scarica simbiontica o simbiotica vai io mi attivo pure il potere va ah no non posso ok vai di nuovo discarica volete me va bene che è successo non lo so mi sentivo vai credo di sì sto andando alla sala centrale posso continuare da lì allora io stavo ecco volevo utilizzare il potere eh lo ho fatto vai di nuovo che bella è bellissima grave ne è stato furbo non veniva ok ah il cane c'è il cane mi sta un po' antipatico però io faccio la scarica sono un po' che facciamo muori? ok ragazzi scusate se bevo senza farvi riscattare la sfida ma sto avendo problemi ultimamente quindi stasera bevo abbiamo un altro mini boss prima di passare alle cose serie devo darti una brutta notizia ho finito il miele bellissimo sergente dice momenti di combattimento sono epici puoi dirlo forte bellissimo è il suo punto forte il combattimento senza onda di dubbio insieme alla trama secondo me aspetta io ho paura ecco ok devo continuare a devitarlo dai che l'ho premuto è ancora in preparazione ma è ora di incrociare le dita ok ok dai sabri devi rimanere super concentrati raga però si batte così basta imparare quando sta per colpire e siete a posto ma raga gli hanno distrutto tutto ma poveri ci stavano lavorando tutti e due cavoli buonasera Iron Death benvenuto povero ragazzi erano in onore anche di della zia May l'avevano costruito in onore della mamma di Harry e di zia May non gli hanno distrutto tutto mischini va bene boh voi non mi fate paura ok eh si ok facciamoli fuori qua abbiamo pure il potere lo sta influenzando Venom e non poco ok aspettate che c'è anche un grosso cerchiamo di stare attenti il cane io ho fatto la ultimate molto bene sergente va benissimo grazie di essere passato ok questi con la con la cosa che stanno combinando aia quello non l'ho visto con un pelo raga ok allora io ho fatto un bel potere niente male a posto ce la siamo cavata ci siamo questo antidoto ok ci dovremmo essere raga abbiamo salvato l'antidoto e abbiamo salvato Harry in teoria ma non abbiamo salvato il posto ecco io lo chiamo ogni volta Orton Orton Osborne si chiama il papà di Harry sei ferito sto bene stiamo bene ma la fondazione quella non mi interessa adesso sei sicuro di stare bene sì per Orton andate dentro e recuperate il possibile voglio un rapporto dettagliato sui danni è chiaro? vai tuo padre ha ragione la fondazione non conta ora come? era il nostro sogno e lo è ancora ma ora dobbiamo pensare a trovare il dottor Connors e a rimetterti in salute lascia fare Buonasera Hang benvenuto in live benvenuto in chat per la prima volta com'è bello volevo prenderlo con la PS5 spaziale prendilo senza ombra di dubbio molto molto bello ok abbiamo finito un'altra principale vamonos ehi hai chiamato va bene così lascia un messaggio ma dove sei Pete andiamo stiamo arrivando eccoci Jeffers Pam avrei bisogno del tuo aiuto sto facendo il possibile per trovare Martin Lee ma sembra tutto inutile so cosa diresti un vero eroe non si arrende mai e io tengo duro ma non so cos'altro fare forse dovrei mettere da parte tutto il resto e pensare solo a trovare Lee no non posso abbandonare chi ha bisogno di me e troverò Martin Lee anche senza Pete sono Spider-Man posso cavarmela da solo cucciolo augurami buona fortuna ok ma Peter ti vuole bene che è un po' incasinato allora chi ha bisogno di aiuto cucciolo ok completato un'altra principale ragazzi stiamo andando alla grande pace vamonos andiamo alla principale che è qui ok qui non ho il teletrasporto disponibile qui per un pelo neanche qui si però quindi andiamo qui che è più vicino ah no perché sta parlando MJ raga non possiamo salire il teletrasporto fino a quando non finisce la chiamata ma due Spider-Man sono meglio di uno no? certo ok grazie MJ quanto pare ok ora forse in teoria possiamo andare rivederei missione primaria disponibile cambio di look Pete è andato a cercare Connors a casa sua ok mi ha fatto passare da un personaggio all'altro alla grande raga ecco perché con lui dobbiamo usare il teletrasporto adesso quindi qua non ce l'abbiamo comunque quindi vediamo dove che possiamo andare qui si però ma andiamo qua va se dobbiamo solo passare il ponte perché non ho usato la ragnatela dai oh vamonos dunque non so se avete visto come li ho abbinati tutti e due col costume col mantello miles è nero e Peter è bianco ok raga anzi anche se si è fatto tardi quest'ultima principale la voglio fare perché ho perso tempo un po' con quella base dei cacciatori quindi andiamo con l'ultima fa che Connors sia qui è ancora in controllo del suo alter ego verde dottor Connors dottor Connors è qui dove sarà povero la moglie se n'è andata col figlio dopo il caso lizard non che a craven importi poverino no cos'è quella una giostra no raga amava gli animali qui cosa abbiamo doppio lavabo bello che mi vedono lo specchio proviamo ad andare di qua vediamo questo cos'è i meccanismi molecolari della ricombinazione genetica del dottor Michaels comportamento degli enzimi interessanti servono altri reagenti per la struttura di staccata ok cucciolo quindi ha mantenuto una una consapevolezza di se stesso in realtà no direi di no ha rotto un po' di cose guarda quindi anche se è trasformato in lizard ancora ha mantenuto la sua coscienza quindi ha provato da solo a curarsi andiamo qui è passato da qui come fai ad essere ancora in piedi ehi la niente numeri sui tasti quindi che devo fa i tasti producono note forse il codice è una canzone la canzoncina della fattoria tutto no allora ok era l'inizio perché meno male erano solo le prime quattro note probabilmente il laboratorio proteggeva eccoci lui e la sua famiglia durante le sue crisi allora vediamo cosa abbiamo qui i suoi primi test sulla rigenerazione degli arti non ho mai saputo come ha perso il braccio eh già il sensore di movimento ha attivato le telecamere circa 30 minuti fa che cosa ti ha fatto voleva esaminarsi il sangue cucciolo avanti dottori resisti coraggio poverino puoi dirlo forte ispezione alla stanza antipanico paura ovvio qua però c'è il campione attenzione sangue di Connors oh oh la bestia è vicina pure qua sti maledetti dai che è il nostro ultimo scontro per stasera sei una grande pena degna di Kraven voglio essere molto chiaro con voi lascerete in pace Connors non merita tutto questo oh cagnolino allora vuoi cani? io amo i cani raga ma in questo gioco no ok aia facciamo così sì sì dai ok direi proprio di sì forza Forza No, un grosso Ok, con lui Ci so combattere, raga Ok Allora, andiamo a prendere quello là Se ce la faccio, vediamo Ok, fermi tutti Allontaniamoci via da qua, cavolo No, così muoio Non ci voleva Forza Ai Cavolo Devi L1 salta, eh No Vado, raga, per un pelo, stavo morendo malissimo Via, 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 via Cavolo no, con lui no Devo aspettare di potermi curare, aiuto Ok Ok, raga Ce l'abbiamo fatta Satelliti in rilevamento Grazie, mezzo che mi fa bere Triangolo la posizione Bersaglio al mercato del pesce di Arlen Dirigersi all'obiettivo Lizard è oltre il fiume Non arriverò in tempo Vediamo Miles Bello Ok Sì, ok Sì, si vede, sì Martigli Che carina lei Qualcuno ha bisogno anche di Miles Non ti ha detto una cosa cucciolissima lei Tutto bene? Scusami Ti scrivo, ok? Poverino Ok Ok E poi Quindi andiamo da Lizard Eccoci al mercato Sembra vuoto Meglio controllare A quanto pare ho compagnia Tutti fuori, presto Via, via, via Accoppia, occhi aperti C'è l'acci Beh, potrei usarli anch'io Sono difese passive quelle Oh Ok Starò lontano Buona a sapersi Non devono trovare Lizard per primi Mettiamoli fuori gioco Cacchio Ok Sconfiggi i cacciatori Anche qua ci conviene comunque stare stealth Ehi Ho ricevuto il tuo aggiornamento Cacciatori a fatti Usano i droni per rintracciare Lizard Credo di sì Perché? Ho un'idea Ci lavoro mentre ripulisci il magazzino Tanto li dobbiamo uccidere tutti raga Quindi Mettiamoci all'opera Questo che è scemo Non vede niente Ma si può? Perché tra l'altro mi dice pericolo? In teoria è da solo, no? Proviamo a mettere un altro Coso lì Tutto pericolo raga Ma se io scendo E li picchio e basta? Vado Ma sì raga Ma sì Me la tento Ok Ok Vai così Al momento Non vedo grossi problemi Vado in arrivo Quindi se c'è una preda Non è certo il lucertolone Vado in arrivo Vado in arrivo Ok Vai Ahia Però va bene Avevamo la ultimate qui da posto Vai ragazzi Una bella scarica Era da un botto che non l'attivavo Finito? No Infatti Il nostro drone Forse il tuo costume Può hackerare la scheda madre Ok Proviamoci Vediamo un po' Ok Mi sto collegando Pronto Ci hanno dato un ex Ok Riavvio l'altimetro Eeeh Evvivo Che figata Se l'è preso Genki Un gran bel drone Sulle tracce di Lizard Grande Che velocità Deve essere andato di là Sembra di guidare Un carro armato Cerca di non romperlo Genki Raggiungi il drone Non faceva passare da lì Scusa No eh Così Ragazzi scusate La live stasera Palesemente sta durando più del previsto Quindi verrà un video Un po' lunghetto Però Non la posso smezzare Questa parte raggi Quindi Vamonos Cerchiamo di Finire almeno questo pezzo Che caos Oh mamma Eh ci stiamo provando Non è opera di Genki Andiamo di qua È Lizard Raga Mi sa che l'abbiamo trovato Quasi sono pure gli artigli Forse ci siamo Che se fa Era di sicuro lui Aiuto Ragazzi è diventato Un horror Chissà cosa c'è dietro La porta numero uno Cosa? Dov'è rifinito? Non lo so Ho visto certe cose Anch'io Pensiamo A trovare Lizard E certo Sì Ma il drone Non l'ha localizzato Come no? Come no? Non è possibile Proviamo ad aprire anche questo Lo sento Qui da qualche parte Quasi preso con la cola Eccolo qui Forza Ha fatto una bella muta Signori Aiuto Ma Peter Non male È nuovo L'edificio è pieno di cacciatori Novità su Connors Ah sì Genki Lo sta seguendo Ehi Signor Parker Signore Spider Ma i dati sono incompleti Forse posso aiutarli Ah Quello è Sangue Ehi Un attimo Prova a metterlo qui Scanner integrato Utile Wow Questi dati spaccano Secondo Ok Ho trovato qualcosa Ehi Genki Con calma Attenzione Raga Sarò un casino Questa live Da editare Però Mi sa che abbiamo Una bella boss Andiamo Mi è diventato Tipo un T-Rex Cammino su due zampe Aiuto Oh mamma Sconfiggi Con voglio di cacciatori Ok Ok Dai Ok Ok Ehi Me lo presti E la prima è andata E' super Super Emozionante Cammina Dai Muoviti Facciamo così Voliamo un po' Se non è troppo lento Forza Buonasera Gravity Oggi sono in super ritardo Come puoi vedere Di solito io stacco Intorno a quest'ora Invece sono incappata In una missione principale Importante Quindi Ci tocca finirla Forza Vai con l'altra moto Ci sta Dai Si sarà un casino Poi da editarla Questa puntata Perché di solito Non le faccio più lunghe Di Di un'ora e mezza Quindi ora Sarà complicato Poi da Da gestire Però Non la potevo Assolutamente Smezzare Attenzione Paparazzati Abbiamo la telecronaca Aiuta la barca Io penso all'uccello robot assassino Ok Ferma il velivolo Ci proviamo Vai Ho quasi fatto I civili sono al sicuro Lì come va L'elicottero Non si arrende Non con noi però Abbattiamolo insieme Non c'è tempo Guardate come gli cambia la voce Raga Non so se sta cosa La noto solo io Sei mio Sei mio Sei mio Tentacoli Tentacoli What? Oddio Giganterrimo Sì gravity Sono su playstation 5 Si surfa? Bello Bello Lo so Lo so Sia più veloce Vola più veloce Non voglio venire divorato Oh mamma Sia più veloce Che bella questa parte Raga bellissimo Che spettacolo di scena Ecco perché Questa grafica del game Spettacolare Sì raga Me lo sto proprio godendo Grafica spacca mascella Veramente Bellissimo Vabbè è un film Cioè è oggettivamente Fatto da film E' spettacolare Sto gioco Lizard Dove sei finito? Meno male va Senti la voce Anche io No raga Io non vedo Io amo Venom Raga troppo bella Questa cosa Sta prendendo Sempre di più Il sopravvento Raga Si sta facendo Sempre più interessante Missione completata E così Finalmente posso salvare Raga E posso staccare Il segnale di Connors Viene dalle fogne Sotto là Per west Vado Perfetto raghi Vediamo chi c'è Che ci chiama MJ No Lo sto inseguendo ora Qualcosa non va Niente Certo Niente Miles era fuori forma L'avevamo quasi preso Miles Guarda come sta dando La colpa a Miles Avete visto come ha dato La colpa a Miles Ragazzi Lo sta cambiando Venom Lo sta cambiando Sempre di più Quindi io non vedo L'ora che Di entrare nel vivo Di questa cosa Vabbè ragazzi Ragazzi Questa è una cosa Che ci sta dicendo Genki Su una secondaria Quindi direi che possiamo Staccare qua finalmente Scusate se ci ho messo Molto stasera Se ne sono andate Due ore di live Ma ero nel bel mezzo Della missione Non potevo smezzarvela Altrimenti poi Off come non riesco A fare le secondarie Quindi dovevo assolutamente Finirla Sarà mia premura Cercare di editare la live In modo tale Che non duri troppo Sperando di prendere Veramente solo Le parti salienti Quindi in ogni caso Spero che vi sia piaciuta La live fino a qui Spero che il gioco Vi stia piacendo A me tantissimo Non so se si nota Veramente tanto Tra tutti i Spider-Man usciti Spider-Man 1 Miles Morales E questo Secondo me questo Batte tutti e tre Cioè tra tutti e tre Scusate è il migliore Quindi Mi sta piacendo Veramente un casino Quindi spero Stia piacendo anche a voi Visto che ve lo sto portando E niente Noi ci salutiamo Per stasera Vi rimando Appunto alla live Di Mercoledì Quindi ci sentiamo Mercoledì Live qua Sempre su Twitch E con un nuovo video Su Youtube In realtà Arriva Non posso dire domani Perché è passata la mezzanotte Quindi arriva oggi Quindi ci sarà un nuovo video Alle 14 su Youtube E Mercoledì sera alle 22 Continuiamo la nostra avventura Da questo momento Quindi continua La nostra caccia lizard Io Qua appunto potrò staccare Così mi godo Un attimino le secondarie Cerco di farne il più possibile E di ripulire piano piano La mappa E Così da andare Sempre più spediti Raga E nulla Grazie ancora a tutti Per essere stati con me Ringrazio i nuovi iscritti Ringrazio chi si è abbonato stasera E noi come sempre Ci sentiamo alla prossima Un bacio grande E buonanotte a tutti Ringrazio i nuovi iscritti Giorgiobeltti